Sì, siamo veramente soddisfatti di questa conferenza stampa dove abbiamo così illustrato il progetto di questo bellissimo impianto sportivo che finalmente vedrà la luce. Dotare il nostro comune di un impianto in sintetico era il sogno di tante generazioni che oggi si realizza, quindi siamo davvero entusiasti e soddisfatti. E' la stagione delle opere pubbliche che avevamo promesso, quindi dopo il campo sportivo ci saranno altri momenti importanti. Ma un altro momento importante è stato quello di annunciare alla nostra cittadinanza che volontà di questa amministrazione che il campo sportivo che nascerà a Camerota prenderà il nome di un nostro concittadino amatissimo, una persona che amava il calcio, amava lo sport, amava i giovani. Un uomo davvero dai sentimenti importanti e lo ricorderemo per sempre imprimendo una targa a suo nome nel campo sportivo che nel prossimo consiglio comunale chiederemo la votazione per poterlo chiamare campo sportivo Italo Cammarano. Oggi è una giornata molto importante per Camerota. Diamo inizio ai lavori di restyling del campo sportivo. Un'opera attesa da tantissimo tempo e infatti i nostri ragazzi giocavano su un campo che non era degno di essere chiamato tale. Questo campo sarà fatto con materiali moderni, innovativi e progettato al futuro. Quindi cari ragazzi, vi auguro cari atleti al più presto di poter usufruire di questo impianto e di portare in alto il nome di Camerota alle cronache sportive. Un altro tassello si aggiunge alle opere realizzate in fase di realizzazione per le attività sportive nel comune di Camerota. Il progetto che abbiamo presentato questa sera riguarda sì Camerota a capoluogo ma è strategico poiché anche grazie alla strada che collega Camerota e Lentiscosa si trova appunto al centro dei tre paesi interni di modo da raccogliere un pochino tutta la comunità di Camerota. Questo progetto è nato e pensato per le future generazioni per garantire loro la possibilità di fare attività sportive all'aperto e in tutta sicurezza ma anche in quelle presenti alle realtà del territorio e tutte le associazioni sportive e calcistiche che fino ad oggi hanno militato in campi non all'altezza delle società che rappresentano. Oggi è stato un giorno importante per il nostro comune, finalmente è stato presentato il progetto di realizzazione del campo sportivo di Camerota. È stata una bellissima giornata perché sono presenti tanti ragazzi, tanti bambini e per quello è stato anche emozionante. Finalmente nel comune di Camerota avevamo un campo sportivo nuovo, moderno, adeguato anche ai tempi. Era necessario realizzarlo perché avevamo delle strutture fatiscenti e con degli spogliatori non adeguati e forse eravamo uno dei pochi comuni del Cilento che non avevamo appunto un campo sportivo a passo con i tempi. Io penso che la realizzazione di opere per lo sport è fondamentale, soprattutto per i bambini, per la crescita sana di questi ultimi e soprattutto per combattere anche quello che è lo spopolamento, soprattutto che viviamo nel Cilento attualmente. I nostri ragazzi, specialmente nel comune di Camerota, potranno frequentare varie attività sportive, finalmente avremo un campo sportivo adeguato, abbiamo il palazzetto dello sport e quindi penso che è bello per i nostri ragazzi poter frequentare e crescere in modo sereno per il loro futuro stesso.